benvenuti benvenuti cari amici siamo pt questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di di suggerire like iscriviti al canale iscriviti al canale di tegram bitcoin 62.150 dollari in questo preciso momento non vedo il tutto di quello che sta venendo ma guardate qui che candelone abbiamo avuto letteralmente sul settimanale siamo partiti da zona 52.570 dollari c'è stato un scale rockets pensate più 20 per cento nel giro di pochissimi giorni ma ora che cosa potrebbe avvenire parlavamo da zona i 64 zona raggiunta nuovamente poi retest in zona 59 6 ok l'abbiamo visto proprio l'altro giorno c'è stato questo retest e ora attenzione perché bit potenzialmente sembrerebbe carico abbiamo volumi molto molto interessanti vero che su daily abbiamo le medie mobili che in questo momento sono molto lontane ok quindi questo potrebbe letteralmente spaventare soprattutto ok per chi volesse ok tra l'ora però il mio target ve lo dico subito potenziale è quello dei del veicolo tamai zona 69 andrò a vedere se potenzialmente bit può avere la forza di prenderlo in caso di raggiungimento in questa zona e qui penso ci saranno tantissime ok liquidazioni tantissime vendite poi potremmo andare nuovamente giù scarichi che potrebbero essere molto molto diciamo così potenti ma aspetto anche addirittura scarichi del 20 barra 30 per cento tra l'altro voglio proprio mostrarvi un'accusa che secondo me è molto interessante cioè la seguente in caso di raggiungimento ultramai bitcoin in caso di raggiungimento nuovamente della zona dei 53 mila sarebbe un scarico del 20 per cento cosa che avevamo già visto nel precedente bull market proprio quando andavamo a prendere la zona dei 20 mila dollari penso vi ricordate qui ci fu un importante scarico con nuovamente zona ok di rimbalzo poi a 16 mila quindi si scaricò addirittura 30 per cento quando raggiungemo il vecchio ultramai nel 2017 quindi quello che potrebbe riavvenire proprio raggiungimento ultramai con nuovamente poi zona dei 53 questo è un po' quello che mi aspetto ok quindi se i volumi continueranno in questo modo è più che fattibile volevo mostrare anche il daily daily che tra l'altro sembra bloccarico vediamo in questo momento abbiamo fatto un costo che reseguete qui double top in zona 87 quindi questo potrebbe indicare potenzialmente rischio però bit è forte ok soprattutto sul settimanale vediamo che sta avendo continuità abbiamo rotto anche quello che era un vecchio ultramai di 82 66 quindi ci stiamo avviando un po' a quella che fu una precedente bull market vedete zona di attualizzazione su resi che implicarono dei piccoli scarichi che poi diciamo si concretizzarono con livelli molti più alti di bitcoin quindi stiamo a vedere ma io rimango sempre bullish dopodiché guardate qui sul quattro ore che bella formazione abbiamo avuto perché proprio i 59 mila 600 dollari risultavano essere un importantissimo ok supporto qui l'avamo detto anche interno gruppo cavoli tantissimi stanno tradando e attenzione perché un double top io me le aspetto ok quindi nuovamente zona dei 63 mila 63 mila e 3 potremmo andare a prendere quindi anche per chi tra da leva potrebbe essere molto molto interessante questa opportunità che potenzialmente abbiamo dopo voglio mostrarvi alcuni tweet che secondo me sono molto interessanti perché in seguito giornati ieri all'itf approvazione itf che è già venuta giorni fa ci sono stati acquistati 11211 bitcoin a fronte della produzione da parte dei miners di nuovi 900 bitcoin quindi insomma la domanda in questo momento c'è ok per bitcoin è per questo che momento il prezzo sta salendo dopodiché se ne vedrà anche la logaritmica ok di fubonacci cosa vediamo vediamo collegando i minimi crescenti nell'arco dei vari anni ci aspettiamo breakout che c'è stato quindi l'election potrebbe letteralmente ancora continuare e vi ricordo che ancora i retail non sono entrati ok all'interno di questo mercato quindi io rimango fortemente bullish poi tornato a twittare ovviamente anche il nostro amico plan b plan b che ci dice addirittura secondo il suo modello bitcoin potrebbe raggiungere un milione di dollari entro 2025 cosa che io vedo molto difficile però ma secondo me ci vuole un po di più ci arriveremo non impossibile perché ovviamente sappiamo che cos'è bitcoin però la vedo dura ok al momento questo è un po quello che ci dice all'epoca ci disse 100 mila dollari e ci andavamo vicino ok 69 mila quindi vedremo prezzi che può raggiungere 200 300 sono fattibili però al momento non vediamo ok comunque del nuove manovre con nuova liquidità e così via quindi il fatto che già stiamo crescendo in maniera così diciamo molto consistente già è buono ok come come sentimento dopodichè voglio mostrare anche quello che sta avvenendo su ethereum che andata a prendere quella famosa resistenza praticamente di 3600 quindi attenzione a itar che per l'appunto le ho detto guardate qui c'era questa importantissima resistenza per quanto riguardava ethereum che l'abbiamo presa e ovviamente mi aspettavo come più volte detto nuovamente poi retouch vediamo le medie mobili sono lontane sul weekly ci stanno facendo letteralmente da supporto in questa fase di mercato per attenzione ok itar perché secondo me nel breve deve arrivare un piccolo storno storni che potrebbero arrivare anche forti in caso vedremo se bit raggiungerà 69 mila quelle zone la anche di 2007 ok questo è un po quello che mi attendo sarebbe più che salutare normalmente riraggiungere anche questa zona qua per poi prendere andare su in ogni caso una correzione farebbe bene quindi una correzione di questo tipo per poi prendere e rompere definitivamente poi volevo stare anche sul daily penso daily sia chiara quella che è situazione anche se qua mi aspetto un momento che è un double top quindi in zona 3549 si può pensare eventualmente andare a longa leva valutate ovviamente con stop loss e soprattutto vi ricordo sempre che ethereum contro bitcoin è ancora fortemente debole lo vediamo chiaramente ok da questo grafico abbiamo questo supporto sui 5 centesimi in questo momento siamo ai 55 quindi insomma secondo me ethereum non avrà grossi problemi ok per performare bit dopodichè volevo ricordarvi che l'abbiamo visto ieri in live sono andato ad aprire una nuova piattaforma quindi se scrivete samubit.com ve lo lascio sotto in descrizione potete andare a vedere anche i miei video corsi regali o tre video corsi e tre video corsi tre video per ogni corso che è letteralmente gratuito quindi basta che ti scrivi alla piattaforma e sarei letteralmente dentro e in più ti ricordo che ora c'è una super promo per quanto riguarda bit get che danno premi veramente pazzeschi addirittura un apple watch un macbook un iphone partito il torneo di trading ok quindi insomma durerà ancora 14 giorni 9 ore ci sono premi fantastici e ovviamente per partecipare dovete essere iscritti con un link affiliato quindi se non sei ancora iscritto a bit get ti lascio sotto il link in descrizione tra l'altro anche per la community samubit fino a 3.000 usdt fino al 31 di marzo quindi veramente una promo pazzesca ti ricordo anche che se effettui un deposito di 50 dollari riceverai 20 dollari usdt bonus gratuiti quindi è gran bella offerta dopo di che andiamo a vedere quello che potrebbe venire sull'alcoin perché tutti parlano di bitcoin però nessuno parla di alcoin stiamo vedendo un'intelligenza artificiale che sta facendo letteralmente numeri e ragazzi potenzialmente siamo appena all'inizio ora voglio mostrare un attimo questo trend ascendente che di lungo siamo sui un trillion ok per quanto riguarda la total 2 e il council channel secondo me si è appena attivato ok vedete ci siamo appena attivati ok sull'alcoin quindi secondo me andremo a fare veramente numeri pazzeschi appunto 1.2 trillion guardate dove la resistenza in questo momento siamo alla resistenza di 1.27 trillion quindi secondo me vedremo gran bei numeri di tantissime alcoin per cui stiamo sintonizzati stiamo sempre attenti e io ve l'ho detto che come secondo me non è coinciso letteralmente devastante sarebbe partita c'è addirittura chi chiama sulla total 2 i 10 trillions nel momento la vedo dura vedete che abbiamo questa importantissima resistenza di 1.7 trillions però ragazzi manca poco pensate quanto ci porterebbe su tornare nuovamente a 1.7 trillions sarebbe quasi un 70 per cento ulteriore ok sull'alcoin quindi secondo me alcoin che devo ancora recuperare ethereum che devo ancora recuperare quindi attenzione ok attenzione perché siamo belli carichi in questa fase di mercato dopodichè voglio mostrarvi anche la total 3 che è andata letteralmente a rompere abbiamo rotto questa importantissima resistenza di 600 miliardi quindi ovvio questo ha conferma che le alcoin secondo me sono letteralmente cariche poi andiamo a vedere anche quello che sta avvenendo sul giornaliero che per conto riguarda le alcoin le alcoin letteralmente on fire soprattutto quelle di intelligenza artificiale vediamo fat più 15 6 per cento axl più 61 per cento pepe più 12 per 6 per cento quindi sta continuando anche la corso di pepe e proprio per quanto riguarda la i vorrei ricordartelo anche se vuoi andarti a vedere la mia nuova piattaforma ok vai subito a spulciarla perché io ho fatto un corso sulla i quindi ad esempio fette che sta pompando io l'ho fatto il video su fette cioè ragazzi andate a vedere queste cose perché io parlavo della i quando stavamo a 2.7 miliardi capitalizzazione oggi stiamo 20 miliardi ok 76 x giusto per darti un'idea ok del botto che secondo me potremmo fare quindi guarda qui ad esempio fette più 24 8 singularity più 23 corgi ai più 21 per cento insomma sta letteralmente esplodendo tra l'altro fette va a fare letteralmente non volta mai quindi attenzione perché siamo letteralmente in price discovery secondo me peggiore ipotesi fette potremmo andare anche a ritestare ok quello che ho il suo vecchio ultramai oramai vecchio perché l'ha rotto e proprio riprendere e andare su io la vedo veramente una carissima coin e l'avevo detto anche nel gubukawi quindi insomma c'è chi ce l'ha e la stanno guardando in maniera massiva poi altro trend che secondo me scoppierà è anche quello dei meme token anche qui sto osservando tantissime cose siamo a 33 miliardi quindi insomma stiamo esplodendo grazie a ritorno comunque i dogecoin shiba che stanno trainando che stanno trainando letteralmente questo mercato vediamo addirittura pepe più 151 per cento un pepe che sta spingendo manetta e ce ne sono tantissime ok di meme che secondo me potrebbero fare numeri e guardate qua shiba shiba sembra letteralmente pronto a rompere ok questo muro dei 1457 quindi vediamo un po sul settimanale shiba sta iniziando a caricare e secondo me iniziano ad essere bullish ok su shiba ora non so se torneremo nuovamente in zona l'altà mai la vita un po dura però attenzione perché shib sta carburando che è una di cui meme che a me assolutamente piace vediamo come contro bitcoin sta iniziando a riprendersi quindi attenzione a shib perché i volumi stanno lesamente tornando e vi ti ricordo che se anche tu vuoi migliorare quelli che sono le tue conoscenze del mondo cripto vuoi iniziare letteralmente se tra una strategia ti ricordo che poi per notare le tue quelle gratuite a non vedere ovviamente se sei interessato quello che è il gruppo di cowboy e anche come potenzialmente possiamo fare un percorso assieme e per questo è piaciuto questo video ti ricordo di di suggerire like iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista